Come ben saprete il coronavirus sta incidendo tantissimo sugli principali eventi sportivi dal calcio e anche ai motori e il moto mondiale non è stato esente da rinvii e spostamenti Il circuito del Qatar comunque ha offerto uno spettacolo interessante per quanto riguarda le categorie Moto3 e Moto2 Tuttavia però come ben saprete il gran premio più importante, quello della categoria della MotoGP è stato cancellato, non verrà recuperato appunto a causa delle forti restrizioni che il governo catariota ha espresso sui piloti e i dirigenti italiani diciamo presenti nel paddock della MotoGP appunto per evitare un contagio generale anche nello stato del Medio Oriente nel momento che l'Italia è uno dei paesi più contagiati dal Covid-19 quindi la MotoGP non ha corso tradizionalmente nell'apertura in Qatar mentre Moto3 e Moto2 sì e dunque saremo qui a parlare proprio di quello che è successo poco fa Ai microfoni Meteo Torga dunque la panoramica del circuito di Los Ailes ci introduce a Moto3 e Moto2 e avremo appunto per la prima volta un fatto storico ovvero che il mondiale delle categorie inferiori appunto sarà per una volta più grande di gare rispetto alla MotoGP questo perché ci sarà una gara in più, quella del Qatar, gara che la MotoGP non recupererà tra l'altro sempre a proposito del coronavirus il Gran Premio di Thailandia che doveva svolgersi tra due settimane è stato posticipato, verrà recuperato comunque a ottobre nella settimana dal 2 al 4 appunto di ottobre e dunque la MotoGP colpo di scena partirà per la prima volta il 5 di aprile a Austin, Texas per il Gran Premio degli Stati Uniti quindi mai la MotoGP a memoria era partita veramente così tardi da quando ci sono 19 gare in calendario per Moto3 e Moto2 in realtà saranno 20 come dovevano essere programmati in anticipo e la prima di queste 20 gare la va a vincere Albert Arenas, pilota del team Aspar Martinez Albert Arenas è un pilota spagnolo che non è nuovo a vincere una gara in Moto3 è un pilota abbastanza esperto di questa categoria e di fatto involata con lo scozzese John McPhee taglia il traguardo per primo e si aggiudica il Gran Premio del Qatar la gara della Moto3 è stata la classica gara di Moto3 di fatto fino a due giri dal termine quindi un bordello incredibile con mille mila piloti a giocarsi la vittoria con sorpassi a destra e sinistra a un certo punto a due giri dalla fine cade del rimbendere in uno scontro con Tony Arbulino che era uno dei pochi italiani protagonisti in questa categoria almeno per questa gara del Qatar e di fatto la gara si riduce a una volata tra lo spagnolo Arenas e lo scozzese John McPhee lo spagnolo ha la meglio sul numero 17 e dunque suona la marcia reale per il numero 75 Albert Arenas che va a vincere la quarta gara della carriera un podio completato da John McPhee appunto e da Ai Ogura Ai Ogura per la verità sul podio ci finisce post gara perché sul traguardo è arrivato terzo Haume Masia del team Leopard Haume Masia però verrà penalizzato insieme a una miriade di altri piloti per aver ecceduto i limiti della pista i piloti penalizzati in questo caso sono Haume Masia, Gabriel Rodrigo, Gabriel, scusatemi, Jeremy Alcoba e anche Philip Salac per una retrocessione diciamo di una posizione per ciascun pilota e dunque sul podio ci finisce Ai Ogura del Honda Team Asia per la prima volta nella carriera Albert Arenas vince per la quarta volta e John McPhee, venerabile maestro di questa categoria ancora una volta si dimostra un pilota da podio in questa competizione molto bene le onde in generale di squadra perché al netto che ha vinto KTM la scuderia giapponese ne piazza 8 nei 10 con migliore dei italiani Dennis Foggia al traguardo in realtà per larghi tratti della gara il migliore dei italiani è Antonio Arbolino poi appunto figlio del contatto con Binder il pilota Lombardo è finito veramente nelle retrovie gli altri italiani purtroppo sono andati veramente male addirittura lo Sky Racing Team VR46 manco finisce a punti, segno che la scuola italiana ne piazza 9 in generale in questa categoria ma deve fare sicuramente meglio della prestazione oscena del Qatar per quanto riguarda appunto i piazzamenti di squadra tra l'altro citiamo anche che a punti ci finisce anche Lusquarna terza costruttrice su tre presenti con Alonso Lopez che è il primo pilota diciamo della formazione di Max Biaggi lo Sterigal da Max Racing Team quest'anno si appoggia a Osquarna e non a KTM malissimo un altro italiano Romano Fenatti che finisce ventitresimo per il resto tutti i piazzamenti più importanti li vedete qui sorpresa sicuramente Filip Salac che prende veramente tantissimi punti per essere di fatto un semi esordiente la seconda stagione totale in Moto3 è una gara quella del Qatar appunto condizionata dall'incidente tra Arbolino e Derrimbinder vedremo se nel mese prossimo a Austin Texas gli italiani saranno in grado di fare meglio e vedere magari altri valori in campo la prima gara come tutte ormai per la prima ovviamente sta a significare di fatto l'assegnazione dei punti e vedremo se effettivamente anche nel proseguo della stagione i valori saranno questi passando alla Moto2 possiamo invece definirla come la gara delle cose improbabili a partire dalla qualificazione perché per la prima volta abbiamo avuto un nuovo e nuovo alla ribalta ovvero Joe Roberts il pilota americano del team American Racing Moto2 che è passato alla ribalta perché l'anno scorso ha fatto punti zero in tutta la Moto2 era la prima stagione e quest'anno pronti via alla prima gara stampa una pole a pari merito con Luca Marini del team Sky VR46 e quindi Joe Roberts di fatto parte dal palo e per via del regolamento che vede il secondo giro veloce più basso del giro veloce di Luca Marini Joe Roberts parte dal palo e sarà anche protagonista della gara perché Joe Roberts per larghi tratti della gara a volte sarà in grado di lottare per il podio ma alla fine registriamo una prima vittoria in carriera e dunque celebriamo la prima vittoria di Tetsuta Nagashima che quest'anno ha cambiato squadra Tetsuta Nagashima è un pilota giapponese che viene dal team Stop & Go lo stesso di Remy Garner tanto per intenderci passato adesso in KTM Ayo uno dei team più presidiosi delle categorie inferiori e celebra non solo il primo podio ma anche la prima vittoria della carriera e dunque suona per lui il Kimigayo l'inno nazionale del Giappone tra l'altro Nagashima ha dimostrato di avere un grandissimo passo soprattutto sfruttando il calo di gomma che hanno avuto tantissimi piloti in particolare Luca Marini che per grandi tratti della gara era addirittura in testo Luca Marini che per la verità come vedremo dalla grafica finirà addirittura per terra neanche a punti a un certo punto poi dopo che Nagashima era andato via di fatto la lotta per il podio si riduce a quattro piloti con Baldassarri, Bastiani, Roberts e Garner che finiranno esattamente in quest'ordine tra l'altro per Baldassarri è il secondo podio consecutivo qui in Qatar dopo che l'anno scorso addirittura ci aveva vinto sono molto contento per il best di Rimini Enea Bastiani che finisce ancora una volta sul podio in realtà è la seconda volta per il numero 33 in moto 2 molto bene Joe Roberts che comunque finisce quarto dopo aver fatto una pole stratosferica e incredibile quinto Remy Garner altro più a tenere d'occhio in questa stagione insieme anche a Orca e Navarro che finisce sesto secondo me il campione del mondo comunque potrebbe uscire da questi primi sei piloti è andato male Augusto Fernandez è andato anche male Xavi Vierge un altro pilota che poteva crescere per quanto riguarda gli italiani abbiamo detto doppio podio con appunto Baldassarri e Bastianini gli altri italiani che finiscono appunti sono Marco Bezzecchi del team Sky VR46 Fabio Di Giannantonio con la Speed Up e anche Stefano Manzi con l'MV figlio appunto della caduta di Luca Marini ed è bellissimo comunque vedere che ci sono tanti costruttori diversi anche in questo caso in zona punti se nella Moto3 ce ne erano 3 su 3 qui di fatto ce ne sono praticamente 4 Kalex, Speed Up, NTS e appunto MV Agust segno che anche la Moto2 è un campionato veramente molto equilibrato bravissimo Nagashima che appunto ha sfruttato il passo negli ultimi giri per andare a vincere la competizione dopo che gli altri hanno avuto un calo di gomme pauroso soprattutto i ragazzi del team Sky Marini e Bezzecchi Marini per la cronaca prima della caduta era retrocesso in quarta anzi ottava posizione e dunque anche in questo caso registriamo la assegnazione dei punti e dunque andremo a Austin, Texas con questa classifica figlia appunto dei piazzamenti con Nagashima primo Baldassare e Bassalini secondo e terzo fatemi sapere cosa ne pensate delle gare della Moto2 e della Moto3 il saluto da parte di Matthew Thorgard e ci vediamo dunque al prossimo video grazie a tutti